Una bellissima serata all'insegna del divertimento e dell'aggregazione tra il gruppo giovani industriali e il gruppo piccola industria. E' comunque uno stop a un percorso di un anno ricco di avvenimenti e ricchi di iniziative. Ci aspettiamo per l'anno prossimo sicuramente una sempre più collaborazione tra le varie sezioni e una collaborazione con gli enti locali perché le sfide che ci attendono sono veramente ardue. Siamo anche qui per fare il resoconto, per tirare le somme dell'inverno, un inverno che è stato abbastanza duro per tutte le nostre aziende ma siamo fiduciosi che possiamo ripartire al termine di queste brevi vacanze con la marcia giusta e far sì che Napoli sia da traino per tutto il mezzogiorno d'Italia. Queste iniziative sono estremamente importanti per noi imprenditori del territorio che in una Napoli che negli ultimi anni sta crescendo sempre di più dobbiamo fare rete in qualche modo per cercare di renderla sempre più vivibile e organizzata. Abbiamo ritenuto importante sostenere un momento di aggregazione, un momento come questo dove la base associativa è scesa in piazza per confrontarsi, per fare networking, per conoscersi meglio. In queste occasioni si conosce meglio.